Cani Gatti e Compagnia Per farvela apprezzare abbiamo raggiunto Noviglio in provincia di Milano, siamo ospiti del signor Roberto Cucchi che ha dato vita all'allevamento Nodaro Bullmastiff. Grazie per averci invitato, come nasce la sua passione per questa razza? È nata 25 anni fa, quando è arrivato in casa nostra il nostro primo Bullmastiff che si chiamava Lothar e da allora abbiamo iniziato ad avere sempre almeno un Bullmastiff in casa. Fino a quando, spinti un po' dalla passione e dalla voglia di andare in esposizione e dalla voglia di far conoscere questa razza al più possibile numero di persone, abbiamo deciso di allevare. Questa razza da dove arriva? Arriva dall'Inghilterra, è una razza inglese, è una razza riconosciuta ormai da quasi 100 anni, visto che il primo Bullmastiff registrato presso il kennel inglese è stato registrato nel 1924. Ce ne sono tanti di esemplari di Bullmastiff in Italia? Diciamo che negli ultimi anni il numero è cresciuto notevolmente, grazie all'ottimo lavoro fatto dai tanti allevatori italiani abbiamo avuto cani italiani che si sono qualificati campioni del mondo, campioni europei, quindi il livello del Bullmastiff in Italia è di eccellente livello. Abbiamo avuto la fortuna di vedere dei cucciolini di 10 giorni, una bellissima cucciolotta di 3 mesi e degli splendidi esemplari di adulti, comunque di Bullmastiff adulto, ma secondo lo standard di razza che di peso possono raggiungere? Allora, le femmine 50 kg e i maschi 58 kg. E quali sono le caratteristiche che deve avere? Deve essere armonioso comunque un Bullmastiff? Deve essere armonioso, bilanciato, con una grande ossatura, ma non pesante, quindi la sua taglia deve garantirgli un ottimo movimento e un movimento che gli consenta di essere attivo e non quei cani di grande peso che sono molto lenti, poco reattivi. Il Bullmastiff è un cane reattivo, è un cane che lavora, è un cane che si muove, nonostante la grande muscolatura, la grande sostanza, è un cane che è adatto anche al lavoro. Quindi un peso notevole, ma lo stesso comunque una grande agilità. Certo, diciamo che se lo rapportiamo all'uomo non è un peso massimo, ma è un ottimo peso medio. E per quanto riguarda il pelo invece, ci sono dei colori particolari? Allora, i colori sono fulvo, albicocca, tigrato, il tigrato può essere tigrato rosso o tigrato chiaro. Queste sono le varietà di colore del Bullmastiff. Un pelo corto, qualche consiglio per la cura? Ma spazzolarlo almeno una volta ogni due giorni e basta. Il bagno noi ai nostri cani lo facciamo una volta al mese nel periodo delle esposizioni, se no anche ogni tre mesi va benissimo. Non necessitano di grande cura per quanto riguarda il mantenimento del manto. E quanto mangia? Ma diciamo che la quantità di mangime viaggia di pari passo con la crescita del cane. Quindi diciamo che dai tre ai dodici mesi, che è il periodo di formazione da cucciolo a cane adulto, può arrivare a mangiare oltre il chilo di crocchette al giorno. Quando il cane invece raggiunge l'età adulta, diciamo che mediamente il peso può essere dai 600 agli 800 grammi. Lei vive proprio con questi cani, circolano tranquillamente nella sua abitazione. Com'è quindi vivere con un bull mastiff? È facilmente gestibile? Ma diciamo che noi riusciamo, perché abbiamo anni di esperienza, sappiamo come gestire i cani. Quindi riusciamo a stabilire delle regole per quanto riguarda il branco. Però sono cani che hanno un ottimo carattere, non sono aggressivi in maniera inutile, nel senso che se il cane manifesta aggressività o qualche forma di stress verso una persona, è perché è stato o educato male o tenuto nella maniera sbagliata, perché è un cane equilibratissimo. Questo è molto importante, soprattutto per chi è intenzionato a vivere con un bull mastiff. Certo, anche perché, almeno per quanto riguarda il nostro allevamento, noi tendiamo sempre a dare i nostri cuccioli alle famiglie, perché diciamo che secondo noi è la condizione di vita migliore per un cane. E devo dire che la cosa ci riesce anche bene, visto che tutte le famiglie che hanno i nostri cani sono ben contenti, e anzi ci hanno preso anche più di un cane. Ha bisogno di grandi spazi oppure no? No, no, assolutamente. Sono cani che amano stare vicino al padrone, magari nelle serate invernali, stare vicino al camino insieme al proprio padrone. Sono cani che non necessitano di grandi spazi, nonostante la mole. Lei prende parte a diverse esposizioni, ha anche i suoi cani, ha anche una carriera eccellente. Ma diciamo che cerchiamo di impegnarci anche in questo, abbiamo raggiunto negli anni dei buoni risultati, speriamo che nel futuro ce ne siano ancora altrettanti. Sì, facciamo parecchie esposizioni durante l'anno, abbiamo cani che hanno conseguito il titolo di campione italiano, campione internazionale, campioni svizzeri, vincitori di raduni di razza, ed è una passione insomma. La maggiore soddisfazione che ha ottenuto finora con i suoi cani? Sicuramente è stata la vittoria al raduno del club italiano del Molosso nel 2011, con la nostra stongla dei Giud, la quale ha fatto migliore di razza e riserva di best in show di tutte le razze e di tutte le altre dal club italiano del Molosso. Quindi sono otto razze ed è risultata la seconda migliore di tutto il raduno. Sicuramente è un buonissimo risultato che immagino vi stimoli ancora di più a far crescere la vostra famiglia canina. Sicuramente, sicuramente è così. Adesso abbiamo iniziato la carriera espositiva con una femmina di due anni, la quale ha già vinto una mostra speciale a Sanremo ad aprile. Nel frattempo partiremo con dei cani giovani per provare a fare la giovane promessa Inci. Insomma, è sempre un fermarsi e ripartire. Con i cani è così. E quanto vi occupa, diciamo, questo piacevole lavoro durante una giornata? Quando si inizia comunque a iniziare il training con i cani? Ma intorno alle sei di mattina e finisce intorno a mezzanotte. Perché ovviamente noi nella vita facciamo altro, non è che viviamo di cani. Quindi la mattina si dedicano un paio d'ore ai nostri cani. Quindi dargli da mangiare, farli uscire, pulirli e via discorrendo. E la sera, quando si rientra dal lavoro, c'è ancora la stessa cosa, dargli da mangiare, pulirli, portarli fuori. Insomma, quindi la giornata è lunga. E la preparazione per un expo? La preparazione per un expo inizia già a tre mesi. A tre mesi di età si inizia con i primi rudimenti. E porta via non tantissimo tempo, perché bastano dieci minuti al giorno per iniziare a preparare il cucciolo all'esposizione in canina. Lei è Jude, la pluricampionessa di cui parlavamo, quindi chi meglio di lei può mostrarci lo standard di razza? Sì, lei è una canna di cinque anni, è una canna inglese. Diciamo che le sue qualità principali sono una grande ossatura, è una canna di grande sostanza, ha un muso pieno, largo, come prescrive lo standard, un'ottima chiusura di bocca. Diciamo che è un cane molto possente, è molto grande, lei misura al garese 66 centimetri, ed è una canna che è al limite dello standard. Diciamo che è il meglio che si riesce ad avere come dimensione per una femmina. Giulia De Simone, tu sei una giovanissima handler, hai 15 anni, da quanto hai iniziato a partecipare, a prendere parte a queste expo con questi bellissimi esemplari di bullmastiff? Beh, da più o meno da due o tre anni, quando hanno fatto la prima cucciolata, mi hanno chiesto di venire a vedere i cuccioli, da lì subito mi sono interessata moltissimo questa razza, mi piace molto stare anche con loro e andare a qualche esposizione facendo la handler, mi piace molto stare con loro. Come ti prepari? Alcune volte vengo qui con loro e preparo i cani ad andare alle esposizioni, e così mi preparo anche io, imparando cosa devo fare per metterli in posizione apposta per la gara. E come ti comporti in gara? Lo inviti ad essere comunque bravo, calmo, per stare quei minuti in attesa del giudizio? Sì, devono stare calmi perché comunque se incominciano ad agitarsi è impossibile tenerli essendo anche così grossi. Poi quando devono stare fermi mi fa vedere un biscottino e automaticamente dopo loro capiscono che devono stare fermi da soli. A te piacciono tanto gli animali? Sì, tanto, soprattutto i cani. Mi hanno sempre affascinato anche la piccolina, volevo sempre un cane. Dopo alla fine me l'hanno preso, però non è un bullmastiff come loro. Comunque hai tanto affetto, te lo dà lo stesso. Sì, certo. In una parola come definirebbe il bullmastiff? Un amico insostituibile, un cane che oltre a essere fedele come tutti i cani è anche un compagno silenzioso che nel momento del bisogno lui è sempre presente. Take that money and watch it burn Sing in the river the lessons I've learned Take that money and watch it burn Sing in the river the lessons I've learned 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 Sing in the river the lessons I've learned